siamo sempre al famoso venerdì 30 agosto e abbiamo trovato questo cagnone bellissimo questo bigol meraviglioso di sicuro abbandono perché non c'è assolutamente questa catenina al collo che ho appena messo però è possibile anche che si sia smarrito non c'è nessuna come si chiama locandina che cerca il cagnone questo bigol meraviglioso con gli occhi veni qua amore vieni qua amore vieni qua fatti vedere questi occhi che c'è aspetta che non vedo io però allora amore ascoltatevi un attimo lui avrà circa 4 anni vieni qua amore vieni vieni e poi lo guardate giocherillone l'ho portato già dal vetto non al microchip chiaramente quindi cerco vecchio padrone ma con le prove dei polpastrelli scusate ho la sigaretta in bocca ma io con lui ci voglio giocare voi ci volete giocare allora comunque nel frattempo si cerca vecchio padrone voglio un'adozione a 5 stelle controlli pre affido controlli post affido firma al modulo dell'adozione ok io adesso devo andare sapete già dove è la mia giornata non finisce mai ora provo a fare due foto sigaretta in bocca telecamere provo a fare due foto raga è meraviglioso ha degli occhi coloro oro proprio allora il cagnetto non perché un bigol cerca padrone eh della pasta non ce ne può fregare di meno diciamo mo tirava più a due crocchette da